Mi chiamo Shiron, ma tutti mi chiamano piccolo. Moonlight ha vinto il premio Oscar come miglior film. Per la critica di tutto il mondo, è un capolavoro assoluto e universale. A un certo punto dovrai decidere da solo chi vuoi diventare. Magnifico e sorprendente. Tu non mi vuoi bene, ma un giorno capirai che io ti voglio bene. È il film più acclamato e premiato dell'anno. Moonlight. Al cinema.